Le clip di questo video sono state registrate prima dello scoppio dei casi di contagio. Vivo a Londra, ma ovunque vi troviate, per favore, seguite le regole e istruzioni delle autorità competenti per fermare la diffusione. Speriamo di poter tornare a visitare i luoghi dell'arte al più presto. Ognuno di noi, quando visita più di una volta una città, ha dei luoghi del cuore, posti in cui ha trascorso momenti felici, di cui ha bei ricordi, e in cui ritorna volentieri, ovviamente. La Niam per me è uno di questi. L'ho visitata per la prima volta per il sopralluogo di organizzazione di una mostra, nel 2015, e ci sono poi tornata molte altre volte. Io sono Clelia e oggi visitiamo insieme la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Roma è una città fantastica perché ci sono moltissimi musei e luoghi da visitare, siti archeologici, musei di arte moderna e chiese con grandi capolavori. Ma per le amanti dell'arte del Novecento come me una tappa da non perdere è di sicuro la Niam. La posizione della galleria la rende un luogo unico. Arrivando infatti dai giardini di Villa Borghese si è catturati subito dalla scalinata con i leoni di Davide Rivalta. Si tratta di un'installazione nata in occasione del riallestimento della galleria nel 2016. I leoni sono da sempre stati rappresentati in posizioni attente, spesso sulla difensiva, in moltissime scalinate dei teatri di tutta Italia. In questo caso però non si tratta di animali all'attacco ma in riposo. È come se avessero scelto la scalinata del museo come casa per rilassarsi al sole. Accompagnano così il visitatore nell'ingresso al museo insieme alla scritta Time is out of joint che è una dichiarazione dall'amleto di Shakespeare e sottolinea dal 2016 la voglia di creare un nuovo corso nella storia dell'arte attraverso le opere del museo. Le opere conservate all'interno sono per lo più legate alla storia dell'arte italiana del Novecento ma si trovano lavori molto interessanti anche di artisti internazionali. La collezione infatti nasce in pieno 800, qualche anno dopo l'unità d'Italia e quando Roma è diventata da poco capitale. Lo scopo è quello di raccogliere le opere di artisti viventi e da sempre i lavori vengono raccolti e studiati da alcuni fra i più grandi critici italiani come ad esempio Palma Bucarelli negli anni 40. E dal 2016 con questo nuovo allestimento la scelta è stata quella di non seguire per forza un ordine cronologico nell'esposizione della collezione permanente, scelta che io apprezzo moltissimo e che si accompagna a quella di esporre meno opere ma di valorizzarle molto. Ci sono opere che raccontano alcuni dei più importanti movimenti dell'arte come il futurismo in Italia fino al secondo novecento con opere di Pistoletto, Paladino o Boetti che sono ovviamente le mie preferite. La collezione è ricca quindi ho deciso di raccontarvi delle cinque opere che secondo me sono imperdibili alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. La prima è Antigrazioso di Boccioni del 1912. Famoso per essere stato uno dei più importanti artisti del futurismo italiano, Boccioni prima di affrontare la Prima Guerra Mondiale ha viaggiato moltissimo dalla Calabria in cui è nato fino a Roma, Parigi, Milano e Venezia. Ha così sviluppato tante amicizie ma soprattutto una visione tutta sua del movimento futurista, del bello nell'arte e della scultura. E l'antigrazioso non è altro che la raffigurazione del volto di sua madre. Lo stile in questi anni è lo stesso di altre opere famose come ad esempio Forme uniche della continuità nello spazio che si trova sui nostri 20 centesimi dell'euro italiani. Boccioni cerca in queste opere di rappresentare in scultura la realtà come la vede, non per forza bella e di certo in continuo cambiamento, in movimento. Esposto a due passi dalla scultura di Boccioni c'è un altro pezzo imperdibile del museo, lo scolabottiglie di Marcel Duchamp del 1914. Essendo un readymade dell'artista più chiacchierato del Novecento, la scultura è esattamente quello che sembra, uno scolabottiglie. Come in molti altri casi, ad esempio con l'orinatoio, di cui ho parlato nel video sulla unicità dell'opera d'arte, lo scopo dell'opera è quello di presentare un oggetto, della vita e tutti i giorni, e sfidare il concetto tradizionale d'arte e di estetica. I suoi lavori sono considerati una delle più forti provocazioni di tutta la sfera dell'arte e proprio per questo l'hanno rivoluzionata significativamente, dando spazio già nel 1910 al concettuale e liberando l'artista dalla figura esclusiva di maestro, dalle grandi abilità tecniche. Per la prossima opera bisogna fare un salto avanti nel tempo di quasi 40 anni. La collezione della Gnamma è infatti caratterizzata da lavori stupendi degli anni 50 e 60, che è difficile trovare così valorizzati in altri musei italiani. E uno degli artisti rappresentati al meglio è Alberto Burri. Il grande sacco del 1952 è un lavoro particolare perché si tratta di uno dei primi realizzati in quegli anni. Burri era ritornato da qualche anno dalla sua prigionia in America, in un campo di reclusione in Texas. Aveva non solo vissuto la guerra, da medico in Africa, ma anche subito la prigionia in America, appunto in Texas. E i sacchi, come altre sue opere, sono caratterizzati dal lavoro sulla materia prima. I sacchi sono tirati, come una tela, e modificati attraverso dei tagli e delle cuciture. Come se loro stessi avessero vissuto attraverso il tempo e si fossero trasformati grazie alla trama, al colore e alla materia che si trasforma da pittura in scultura. E alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma non potevano mancare le opere di uno degli artisti romani più significativi per la pittura del Novecento, Giuseppe Capogrossi. Superficie 290 del 1958 è caratterizzata da uno dei segni distintivi di Capogrossi, il segno nero su fondo bianco che in altre opere cambia colore ma che è diventato comunque con il tempo il suo marchio. Capogrossi era diventato famoso come esponente della scuola romana prima della Seconda Guerra Mondiale, ma quasi subito dopo le sue opere si sono trasformate diventando astratte e caratterizzate da questi simboli sulla tela, questi segni. E infine un'ultima opera imperdibile secondo me è Dota 44 del 1960 di Cunellis, uno dei principali protagonisti dell'arte povera di Germano Celant. Le opere di arte povera all'Agnam sono diverse, ad esempio si trovano alcuni lavori molto belli di Alighiero Boetti, ma questo di Cunellis è particolarmente interessante. Le opere di questo artista spaziano moltissimo dalla pittura alla scultura fino all'installazione, come la più famosa, Cavalli. Z44 in questo caso invece è una scritta nera su una tela, quasi grezza, che sembra ricordare un elemento chimico, appunto Z44, e rientra in pieno in quelle che saranno le caratteristiche dell'arte povera qualche anno dopo, la scelta dei materiali, l'apparente semplicità della realizzazione e la forza del concetto dell'opera. Vale sempre la pena ritornare alla Galleria Nazionale perché vengono organizzate anche interessanti mostre temporanee legate ad artisti del Novecento o contemporanei. Quando sono andata l'ultima volta era in corso la mostra Monumentum con opere di Robert Morris. Morris è stato uno dei fondatori del minimalismo americano in arte negli anni Sessanta, ma non ha realizzato solo opere minimal e l'intento della mostra era proprio quello di dimostrarlo. Quest'ultimo ciclo di opere che a me sembra uscire direttamente da un film di Harry Potter, ha in realtà moltissimi legami con la scultura e la pittura della storia dell'arte precedente. Queste figure umane sono realizzate con dei tessuti che vengono modellati e bloccati con della resina e sembrano quasi vuote, come se fossero dei fantasmi. E a volte sono come sospese in aria oppure altre volte attaccate alle pareti o semplicemente per terra. Morris vuole proprio sottolineare questo rapporto tra noi, la scultura con cui entriamo in contatto e lo spazio che entrambi occupiamo. Per me è stato uno spunto molto interessante per scoprire nuovi lavori di un artista che in passato associavo soltanto al minimalismo e alla geometria. E se questo giro insieme per le sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati all'arte, miei viaggi al mercato. Inoltre dai un'occhiata al mio blog Art in the Cities dove pubblico quasi ogni giorno un nuovo post legato a temi e opere dell'arte moderna e contemporanea. Grazie e alla prossima!